Ciao a tutti! In questo breve video vi racconteremo la trama di questo libro per ragazzi, un appuntamento in terrazzo di Felicia Kingsley. Vi lasciamo al disegno. Eccoci qua, la storia ambientata nel periodo del Covid, quindi la situazione a casa per entrambi era difficile, ma entriamo dentro casa di Didi. Didi convive con una sorella aspirante influencer che passa giornate sui social a fare foto e video. Con un padre malatto di lavoro che ha trasformato l'intera casa in un ufficio. Con un anno nostalgico con cui devono condividere i propri spazi. E con una madre complottista dipendente dai social, in particolare Facebook. Ma adesso entriamo dentro casa di Alex, che è costretto a convivere con la propria ex fidanzata che passa giornate a fare live fitness sui social. I due si sono incontrati sul terrazzo in un momento di emergenza. E da quel che era un semplice incontro... Che si è trasformato in un vero e proprio appuntamento fisso. E si è rivelato anche molto piacevole. E chissà se questa semplice amicizia si sia trasformata in qualcosa di più. Che si Haw robi. Che si è torna anche la ric reste range. Grazie a tutti. Come ho she? O che sei? O come la ne sono per До grado? Che ci è una pozzanno comunque qualche in un po Mari.